ciao cari amiche oggi vediamo come tagliare e cuscire una gonna a tubino iscrivetevi al mio canale su youtube questa è la gonna e vediamo come iniziamo dunque intanto mettiamo il carta modello sul tessuto che è stato piegato in due mettendo la scimmosa sulla scimmosa la parte davanti la mettiamo sulla parte dove il tessuto è piegato e il dietro dove dovremo fare e lo spacco e la chiusura lampo la mettiamo dalla parte dove c'è la scimmosa la parte aperta una volta sistemato il carta modello disegniamo la cintura la cintura dovrà essere della lunghezza della circonferenza vita più 3 centimetri per la bottonatura altezza almeno 8 centimetri il calcolo è 3 centimetri più 3 centimetri da piegare all'interno e più 2 centimetri per la cuscitura un centimetro per ogni parte quindi avremo una un cinturino della lunghezza della vita più 3 centimetri per la bottonatura più 2 centimetri per la cuscitura un centimetro per parte dell'altezza minimo 8 centimetri che comprendono anche il centimetro da ogni parte per poter cuscire il cinturino alla gonna quello che è molto importante per la gonna e per il cinturino anche per la gonna chiaramente è il dritto filo se il cinturino non è tagliato non è disegnato sul dritto filo quando lo piegherete vedrete che non verrà bene verranno delle onde bisogna cuscirlo con forza quindi fate bene attenzione se volete preparate e anche per il cinturino il cartamodello perché è molto importante che sia sul dritto filo la gonna è sul dritto filo perché il dietro lo mettiamo parallelo alla scimosa il davanti lo mettiamo sulla piega del tessuto quindi automaticamente lo poniamo sul dritto filo comunque non è una cosa da sottovalutare il dritto filo perché da lui dipende la qualità del capo cioè facendo attenzione al dritto filo la gonna non si girerà sul nostro corpo le cusciture non verranno verso il davanti o verso il dietro quindi ripeto molto molto importante fare attenzione al dritto filo adesso tagliamo la gonna così possiamo iniziare a cuscirla il cartamodello già c'è un centimetro per la cuscitura ok la prima cosa da fare è copiare le riprese noi usiamo e questa è una carta copiativa e alla base che ha praticamente sulla carta c'è della tipo cera per cui colorata per cui quando mettiamo dalle due parti la carta che tocca il tessuto e passiamo con questo aggeggio che non so come si chiama comunque una rotellina con dei dentini noi passeremo il segno della ripresa sul tessuto chiaramente bisogna spingere in maniera tale che da entrambe i lati del tessuto potrete vedere il segno perché non ha mestighezza con il centimetro della cuscitura vi consiglio di copiare anche il centimetro la cuscitura tutto questo verrà fatto dal lato meno e dal lato e non bello del tessuto vedete il segno che è rimasto anche sotto è rimasto stesso segno adesso come chiudiamo la ripresa abbiamo le due linee giusto le sovrapponiamo una all'altra mettiamo inizialmente degli spilli per controllare se lo spillo dall'altra parte esce sullo stesso vedete sullo stesso segno dopo aver messo questi spilli potete passare con un'imbastitura o se siete abituate ad usare gli spilli allora potete lavorare con gli spilli chiaramente facendo attenzione a non non far passare sopra la macchina il piedino della macchina da cuscire o ancora meglio potete prendere lo spilli e girarlo cioè metterlo come vedete abbiamo preso i due lati della delle del segno della della ripresa adesso possiamo mettere lo spillo nel così orizzontale in maniera tale che quando passa il piedino anche se per caso dimenticare togliere lo spilli e non succede niente massimo si rompe il lago ma la macchina non accade nulla io vi consiglio di fare l'imbastitura è sicuramente modo particolare per chi è abituato è meglio delle degli spilli ok adesso togliamo gli altri e siamo sicuri che il segno della ripresa dei due lati corrisponde ok adesso iniziamo a cuscire la ripresa per iniziare mandiamo lago in basso abbassiamo il piedino poi lago deve andare in basso ecco e iniziamo a cuscire la ripresa che sarà lungo il segno adesso facciamo il rinforzo andiamo un pochino indietro e poi ecco qui andiamo indietro adesso riprendiamo ad andare avanti seguendo sempre la linea la linea nel mio caso è gialla perché la carta copiativa era gialla quando arriviamo con una linea dritta non è non facciamo l'autostrada ragazze arriviamo alla fine della ripresa che proprio alla fine del tessuto facciamo due tre punti indietro che saranno il rinforzo dopo di che alziamo il piedino lago tagliamo il filo togliamo gli spilli e guardiamo sulle la parte dritta del tessuto come come abbiamo uscito se viene bene quello che è importante vedere che la ok che è molto particolare quando rostridiamo che viene bene che non ha punti dove dove c'è ancora who farò che nell'acqua cultura l'acqua che io faccio l'acqua 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 che mi prende i piedi e vedo a qui si è successo il modo che mi permette per cercare il suo lavoro è che mi prende un po' sull'arga del mio e questo è che mi prende e ora mi prende un po' sull'arga fino alla fine Se volete lasciare il sbappo sul centro dietro, potete cuscirlo fino a 45-45 cm dalla vita verso il basso. Ok, allora abbiamo iniziato a cuscire il centro dietro partendo dalla fine della cerniera che ancora non abbiamo cuscito. E continuiamo verso il basso, sulla linea dei 2 cm, vi ricordo che abbiamo aggiunto per la cerniera lampo 2 cm per la cuscitura. Se volete anche sui lati potete aggiungere 2 cm, ma se voi già sapete che la taglia va bene, allora non c'è problema. Ora iniziamo a cuscire la cerniera lampo. Ok, non è facilissimo però è possibile. Ok, sulla parte esterna della gonna, parte dritta della gonna, noi appoggiamo lungo la linea dei 2 cm la cerniera. Vi ricordo che per cuscire la cerniera nascosta bisogna usare un piedino, che non è quello che vedete sul tavolo, quello è il piedino normale, apposito per questo tipo di cerniera, altrimenti non vengono bene, altrimenti si vedono i dentini della cerniera e allora non abbiamo fatto niente di particolare. A questo punto, dopo aver messo gli spilli, preferibilmente l'imbastitura dopo gli spilli, si va alla macchina da cuscire e con il piedino adatto iniziamo a cuscire questa parte della cerniera. Ok, quello che dobbiamo fare è alzare I dentini della cerniera per poterli mettere dentro, cioè un piccolo, un piccolo incavatura nel piedino. Noi alziamo i dentini a 90 gradi ad angolo retto e li mettiamo dentro questa incanalatura del piedino. Abbassiamo l'ago, andiamo indietro per cuscire la parte finale o iniziale della cerniera lampo. Ecco, qui andiamo indietro fino, se è possibile, fino in fondo e adesso di nuovo avanti facendo attenzione che i dentini rimangono a 90 gradi, cioè che ad angolo retto entrano all'interno di questo canale. Ok, continuiamo a cuscire andando verso il basso e facendo... Teoricamente il piedino alza da solo i dentini, però per essere sicuri lo aiutiamo un po', li alziamo e così siamo sicuri che l'ago non cusce i dentini impedendo poi al piedino della cerniera di chiudere la cerniera. Ok, arrivate fin dove potete, fate attenzione che la cerniera lampo è aperta fino in fondo e noi continuiamo finché raggiungiamo il piedino della cerniera e quindi lui ci ferma. L'importante è anche finire la cuscitura vicinissima alla cuscitura che abbiamo fatto prima per chiudere il dietro, perché in pratica cos'è la cerniera nascosta? È come se fosse il continuo della cuscitura che abbiamo fatto al centro dietro. Ok, adesso stando nella stessa posizione mettiamo lo spillo dall'altra parte, sempre dove c'è il segno dei due centimetri. Anche giù in basso mettiamo uno spillo per evitare che ci siano poi dei problemi quando arriviamo giù, non ci sia il tessuto in più che crea come un'onda, come uno scalino. Quindi ecco, mettiamo bene gli spilli. Ripeto, consiglio di fare l'imbastitura, è la cosa migliore. Mettiamo l'ultimo spillo e poi apriamo la cerniera lampo. Una volta aperta la cerniera, così va, approssimativamente si può vedere se va bene o no. Ok, adesso apriamo la cerniera lampo. E c'è un altro canale sulla destra, un altro tunnel chiamiamo, non so come chiamarlo, per la parte appunto destra della cerniera. Di nuovo alziamo i dentini di 90 gradi ad angolo retto. Dopo aver fatto un rinforzo verso il dietro, adesso andiamo giù e facendo sempre attenzione che i dentini sono a 90 gradi ad angolo retto. Questo, come vi ho detto, per evitare che l'ago cuce i dentini con la cerniera e quindi poi non si può assolutamente aprire o chiudere. Cioè, il piedino della cerniera non va né avanti né indietro. Ecco, qui facciamo attenzione che la cerniera è aperta fino in fondo e cuciamo fin dove ci permette il piedino di arrivare. tagliamo i fili inutili e a questo punto possiamo chiudere la cerniera per vedere come è venuta. Ecco qui, una stiratina e tutto ok. Il cinturino o la cintura dipende come lo chiamate cosa importante o non tanto importante ma insomma si usa mettere la flisolina attaccare la flisolina se il tessuto è bello pesante non c'è bisogno però per un tessuto medio, leggero è meglio attaccarla come vedete io la copro con un altro tessuto per evitare che la colla della flisolina si attacchi al mio ferro da stiro quindi quello che faccio lo copro e così si attacca bene in modo particolare se c'è una vaporetta e la colla non si attacca al ferro da stiro poi piego il cinturino in due perché mi aiuterà poi per cuscirlo alla gonna sarà più facile praticamente mi dirà dove piegare il cinturino e quindi non avrò difficoltà quindi sempre con la vaporetta lo pieghiamo ben bene così anche diamo un ultimo colpo di calore alla colla della flisolina che praticamente è una specie di finto tessuto con appunto della specie di puntini di colla che si attacca adesso quello che faremo pieghiamo dall'altra parte il cinturino e facciamo ai due lati del cinturino una cuscitura adesso mettiamo il dietro sul davanti e cusciamo i due lati della gonna mettiamo degli spilli dopodiché faremo l'imbastitura e potremo cuscirla come vedete questo è il rovescio della gonna anche il davanti sarà sul rovescio la parte dritta, la parte bella sarà all'interno adesso mettiamo gli spilli anche dall'altra parte in genere il dietro è più piccolo del davanti di 4 cm 2 cm per parte per cui dovrete unire le due parti il davanti con il dietro aiutandovi appunto tirando un po' il tessuto ora proviamo a cuscire il cinturino il cinturino parte dalla cerniera come vedete ho messo la parte finale del cinturino proprio dove inizia la cerniera e i due centimetri della cerniera li piego all'interno la parte senza la taglia e cusce sarà quella che unirò per il momento alla gonna ecco vedete faccio basciare in maniera precisa la cuscitura che ho fatto al lato del cinturino con la piega della cerniera lampo poi metterò gli spilli lungo tutto il cinturino fino alla parte opposta dove lascerò la linguina per poter poi cuscire il bottone dall'altra parte faremo l'asola e da questa parte mettiamo il bottone anche qui come vedete abbiamo piegato i due centimetri dove è girato anche appunto l'angolo del cinturino si cuscirà fino a questo punto non oltre ok si può anche chiudere lì prima di cuscire il cinturino ecco vi faccio vedere ho chiuso questo angolo così potrò girarlo e diventerà una specie di linguetta sulla quale cusciremo il bottone dopo aver fatto l'asola adesso continueremo chiaramente cuscendo il cinturino alla gonna con l'aiuto di una punta anche di uno spillo tiriamo fuori gli angoli di questa linguina che abbiamo fatto ok possiamo continuare e appunto cuscire fare prima l'imbastitura e poi cuscire lungo la circonferenza dita della gonna unendo il cinturino alla gonna stessa dopo che abbiamo cuscito il cinturino dobbiamo cuscire la parte che chiude il tutto quindi il centimetro di cuscitura andrà dentro e la parte come vedete la parte interna del cinturino verrà piegata dove appunto abbiamo fatto il segno con il ferro da stiro a questo punto mettiamo gli spilli lungo la prima cuscitura facendo attenzione appunto che il dietro oltrepassa la cuscitura originale di un centimetro ecco che adesso pieghiamo di nuovo questo praticamente è il centimetro che noi abbiamo in più ora andiamo dall'altra parte dopo aver piegato all'interno appunto il centimetro della cuscitura ok piegata all'interno questo lo pieghiamo sopra e poi vedrete che quando mettiamo lo spillo fare attenzione che il segno della piegatura del ferro da stiro sia preciso adesso vedrete che se guardiamo dall'altra parte c'è rimasto un centimetro oltre la cuscitura originale continuiamo a mettere gli spilli finché chiaramente arriviamo nella parte opposta controlliamo che il tessuto è entrato dentro noi faremo una cuscitura proprio qui in questa o sopra come preferite si può fare dove c'è la cuscitura originale oppure un millimetro sopra la cintura ecco adesso iniziamo a cuscire usiamo il piedino si può usare il piedino della cerniera normale perché ci aiuterà a vedere bene se siamo appunto posizionati nel punto che desideriamo come abbiamo detto o lungo la cuscitura di base oppure un millimetro al di sopra verso la parte superiore del cinturino all'inizio dovrete un po' aiutare la macchina ad andare avanti perché è un po' spesso ma non dovete aver paura dovete lavorare tranquillamente ok dopo aver fatto di nuovo l'inversione per rinforzare la cuscitura possiamo andare avanti togliamo gli spigli che potrebbero fare rompere l'ago e continuiamo pian pianino facendo attenzione che la cuscitura viene sempre sullo stesso punto continuiamo finché raggiungiamo la parte opposta del centurino ok una volta cuscita il centurino facciamo l'orlo l'orlo si può fare a mano o si può fare a macchina dipende quello che voi preferite in questo caso noi pieghiamo un centimetro e mezzo e facciamo la cuscitura sulla taglie e cusce per evitare che l'orlo si rivolti e poi si veda appunto la parte interna o la taglie e cusce quindi se noi facciamo la cuscitura sulla taglie e cusce verrà bene non avrà problemi e quindi sarà una gonna estetica con questo abbiamo terminato la gonna ci incontreremo presto con il prossimo tutorial ciao a tutti